Ho conosciuto Bandiera Verde visitando di fatto il sito della CIA, quindi sia quello a livello regionale che quello a livello nazionale. Mi ha affascinato la possibilità di poter partecipare a un concorso a livello nazionale che premiasse le migliori imprese italiane. Ho letto il bando, ho partecipato ad una prima preselezione, ho inviato tutta la documentazione e poi sono stato piacevolmente colpito di poter aver avuto in azienda un funzionario della CIA di Roma che venisse a fare un'ispezione. Fin dall'inizio ho percepito che anche pur venendo da una realtà totalmente diversa, quindi dalla capitale, ha apprezzato il lavoro che c'era dietro questa tipologia di cultura, ha apprezzato gli sforzi e di fatto ci è stato riconosciuto questo importante premio. È uno dei dieci premi a livello nazionale, è un premio che va a riconoscere delle produzioni certificate, che va a riconoscere delle produzioni in alta montagna, perché noi di fatto siamo in alta collina, siamo a sopra 600 metri, e in più va a riconoscere le produzioni in biologico. Sì, ecco, la mia azienda si chiama Arte di Beppe, anche se di fatto si è recentemente istituita da qualche anno, ma solamente in camera di commercio, perché di fatto è la naturale prosecuzione di un'attività di famiglia che ormai si protrae da generazioni. È dedicata appunto a mio nonno, in quanto Beppe era mio nonno, appunto Giuseppe, che abitava in questo territorio e coltivava da sempre l'iris, valorizzando il territorio stesso e preservandolo nel tempo. È stata mia intenzione appunto creare un'azienda ad hoc che potesse produrre e dedicarsi esclusivamente a questo prodotto, non ha prodotti complementari, ma produce solamente iris. Una cosa ci tengo a sottolineare è che la mia azienda si è totalmente convertita al biologico e buona parte delle marginalità di fatto sono destinate a preservare il territorio. E siccome il nostro prodotto deve stare appunto in campo quattro anni, la difficoltà sta nel contenimento delle erbe infestanti, che essendo svolto questo lavoro su un territorio montano, non è meccanizzabile con macchinari o con altri strumenti anche di ultima generazione, ma richiede un lavoro manuale ingente. Questa coltivazione di fatto ha come particularità che è una coltivazione di nicchia, viene fatta in questo territorio, in quanto il terreno dona a questo tubero delle qualità che sono uniche al mondo rispetto ad altri territori. La particularità della mia azienda è che non abbiamo coltivazioni inferiori a 600 metri d'altezza, quindi andiamo a ricercare terreni in montagna, terreni con determinate caratteristiche e in più la particularità della mia azienda è stata totalmente convertita al biologico. Per il futuro io spero di continuare come abbiamo fatto fino adesso questa crescita, quindi spero sinceramente di poter gestire questa crescita. È sempre difficile in un prodotto come quello facciamo noi, perché di fatto questo prodotto deve stare quattro anni in campo e in un contesto anche economico difficile come ora è sempre difficile e complicato poter provvedere quello che succederà da qui a quattro anni. però ecco la speranza nostra è che la qualità che abbiamo nella lavorazione e la ricerca di un prodotto diverso, quindi un prodotto di nicchia, un prodotto coltivato in alta montagna, un prodotto totalmente bio e questa qualità possa essere apprezzata e possa garantirci per il futuro un discreto successo come abbiamo adesso.